Luca Sommi e poi dopo te la faccio lì e bel piede. Premessa di 10 secondi. Nel 2014 Giorgio Meloni presenta un disegno di legge costituzionale per abolire le regioni. E poi cambia idea evidentemente. Le aboliva perché? Perché è un partito nazionalista, sovranista. Fammi finire. Propone questo nel 2014. Abolire le regioni. Sabino Cassese, che presiede i comitati per il LEP, due anni fa diceva questa riforma leghista spacca l'Italia in due. Adesso ha avuto la nomina e dice che è tutto perfetto. Chiusa la premessa. Dov'è la questione? Cruciani dice che gli amministratori del sud, tutti, tutti gli amministratori del sud. No, la verità è un'altra. Che il motore energetico, cioè economico del sud, mezzogiorno ha un problema strutturale, è inferiore a quello del nord. Se tu fai quest'operazione qui di riforma, sai cosa accade? Accade che più soldi rimangono nelle regioni. Qualcuno torna allo Stato, ma più soldi rimangono nelle regioni. E poi cosa accade? Che la gestione diretta di sanità e scuola significa che il programma della maturità lo decide l'assessore regionale. E allora? La programma della maturità. E allora? Ma non va bene. E allora? Ma c'è una... Ma mica è Gengis Khan, l'assessore regionale. È eletto dai cittadini. Non è Gengis Khan. Non è Osama Billade, l'assessore regionale. C'è una sperequazione. C'è un signore eletto dai cittadini. Giuseppe, l'Italia è una... Che a decidere chi spende i soldi o chi organizzi i programmi, se uno è eletto da noi direttamente... L'Italia è una indivisibile. E quindi al sud come al nord. Se il sud è in difficoltà, i fratelli più ricchi del nord aiutano il sud. Prego. E poi il bel pietro. Non c'è nessuna cosa ideologica. Cos'è l'ideologia della lentezza? Ma per favore. Non c'è nessuna cosa di far cassa perché basterebbe i sindaci mettere i controllori per i 50 all'ora. Nessuno fa i 50 all'ora e potrebbero far cassa così. Cosa viene fatto? Perché vengono fatti i 30 all'ora? Perché intanto è un elogio della lentezza che andiamo un po' troppo veloci ed è comunque più rischioso. Da 30 a 50 non cambia il mondo. Non stiamo dicendo da 30 a 100 all'ora. Riduciamo di 20 chilometri all'ora. È un dissuasore l'utilizzo della macchina. Noi siamo ossessionati dall'auto. La usiamo anche per far 100 metri. Noi abbiamo... Questo è l'obiettivo fondamentale. Questo è l'obiettivo. Dissuadere e utilizzarla. Perché? Dissuadere e utilizzarla. Non sono più urbani. Quindi libertà e la libertà di circolazione. Noi abbiamo un primato in Italia, un primato, 684 auto ogni 1000 abitanti, quasi una pro capite, compresi neonati e ottoagenari. Primi in Europa. Primi in Europa. Allora voglio che Cruciani prenda il triciclo. Vai in triciclo. Io non uso mai la macchina. Non uso mai la macchina. Perché sono un privilegiato. Da 50 all'ora a 30 non ti cambia nulla. Da 30 a 50 non ti cambia nulla. Io sono un privilegiato rispetto agli altri. Ma cosa ti cambia? Tu vuoi vietare con un provvedimento dirigista, comunista e socialista, vuoi vietare agli altri di usare la macchina. Riciclo. Ma lo hai detto chiaramente, non è che non l'hai detto. L'hai detto chiaramente. Il suadere per andare in un mondo che usi i mezzi di trasporto pubblici che sono più puliti. Che devasteremo.